Rischia di diventare un giallo il concorso per un posto da dirigente attualmente in svolgimento al comune di Canosa. Il consigliere di opposizione Giuseppe Tomaselli avrebbe infatti depositato presso un notaio una busta contenente il nome del vincitore. Lo si è preso prima da indiscrezioni, poi dai social network e infine dallo stesso Tomaselli sentito telefonicamente. La questione è delicata perché senza nascondersi dietro giri di parole, depositando il nome del vincitore di fatto si allude a un concorso truccato, il che pone obbligatoriamente dei quesiti. Quali sono gli elementi che avrebbero indotto Tomaselli ad avere tale certezza? Se il nome del vincitore sarà quello indicato da Tomaselli, cosa accadrà? Che vincerà il premio Mago Hotel Madoro? Oppure ci saranno delle conseguenze, magari con un'indagine della procura? E se il vincitore del concorso sarà invece diverso da quello indicato al notaio, cosa accadrà? Che avremo scherzato e magari spariranno busta nome e notaio per evitare una possibile diffamazione? E se il vincitore corrisponderà, chi deciderà se lo sarà per merito o per essere stato favorito? Come si evince facilmente sulla questione bisogna camminare sulle uova, perché ha un'accusa grave e che non può lasciare indifferenti, farà contraltare la sensibilità e l'onorabilità delle persone, siano essi candidati, componenti della Commissione o politici. Questi sono i fatti e le domande che abbiamo voluto riportare con la terzi età che meritano. Le risposte saranno altri a doverle dare.